Luca Riello in contemplazione benvenuto Luca Riello è stare tre mesi in Messico quasi quattro quattro alla nemicità di Yucatan no, Quintana Roo buonissimo zio delicatissimo delicatissimo ci piace pensi che la gente ci mette anche l'acciuga dentro a dare sapore se uno vuole ci mette solo l'acciuga e non ci mette il tartino però dicono che è buona continua, però non mi fai una sorpresa è un po' più freddo eh? quasi una sorpresa vogliamo una sorpresa Luca Riello viva acqua si apre la stagione a tema musicale legato ai piatti tanto che non c'entra niente la canzone che sto per fare è una canzone all'arrabbiata con una pasta che zio hai già fatto eh sì, una bella pasta facciamo canzone arrabbiata di Nino Rota 1973 dal film d'amore e d'anarchia canzone arrabbiata io canto per chi non ha fortuna canto per me canto per rabbia questa luna contro di te contro di te contro chi è ricco e non lo sa chi sporcherà la verità cammino e canto penso la rabbia che mi fa penso a tanta gente nell'oscurità alla solitudine della città penso all'illusione dell'umanità tutte le parole che ripeterà ma canto per chi non ha fortuna canto per me e canto per rabbia questa luna contro di te canto a quel sole che verrà tramonterà rinascerà alle illusioni alla rabbia che mi fa grazie Lugariello Lugariello ha un suo canale su Youtube lo potete trovare tranquillamente digitate Luca Ferrari su Youtube e trovate tante tante cancelle e anche il disco nuovo sorridenti senza denti anche questo è un bellissimo sport scaricate anche su iTunes Spotify su Amazon vabbè salutiamo a tutti quanti buonissimo ok ciao Lugariello ciao 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 ciao